Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qua per parlarvi un po' delle novità che vorrei vedere, che penso tutti quanti voi vorreste vedere sul nuovo FIFA 18 Manca un po' di tempo all'uscita di FIFA 18, mancano all'incirca 7 mesi, però comunque sia si comincia già a parlare di questo nuovo titolo Stanno già uscendo le prime notizie, ma io vorrei abbozzare un po' la lista delle cose che vorrei vedere Quindi prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare me che faccio questi video, per voi lo faccio per voi Inoltre iscrivetevi al canale e soprattutto condividete il video se pensate che ci possano essere dei vostri amici a cui potrebbero interessare queste cose su FIFA 18 A cui piace FIFA e in generale potrebbe sbattergene Ok allora direi di iniziare subito con la prima cosa che penso sia importantissimo sia il tegiorne Tegiorne che mi è piaciuto tantissimo su FIFA 17, lo vorrei vedere su FIFA 18 visto che la carriera, la storia diciamo si era fermata ad un certo punto Quindi non vorrei spoglierare, magari qualcuno di voi non ha ancora giocato, però comunque si è fermata ad un certo punto e quindi si capiva comunque che c'era una continuazione Insomma il CEO dell'EA ha annunciato che ci sarà il rinnovo con una seconda stagione di questo tegiorne della storia E ci saranno nuovi giocatori, nuovi personaggi e nuove storie Quindi sarà diciamo il continuo della storia, magari vedremo nuove cose che ci aspettavamo magari quest'anno Ma secondo me non hanno messo apposta per lasciare un po' questo appeal nel tegiorne per l'anno prossimo E vedremo un po' come sarà Secondo me c'è una limitazione molto importante per quanto riguarda il tegiorne Ossia il fatto che non si possa cambiare giocatore in cui magari tu potresti creare il tuo giocatore O comunque prendere le sembianze di un altro giocatore magari anche esistente Invece no purtroppo non si può cambiare giocatore, è sempre Alexander anche se a me e penso tutti quanti piacerebbe vedere il tegiorne con un giocatore creato, personalizzato da noi con il nostro nome Sarebbe veramente una figata però capisco che è veramente difficile fare le cinematiche e le scenette con un giocatore creato Sarebbe un casino atroce però comunque speriamo di vedere un tegiorne rinnovato nel meglio Un'altra cosa che mi piacerebbe vedere veramente veramente tanto ma questa ormai da 3-4 anni che aspetto di vederla ma non è ancora arrivato Il nuovo FIFA Street FIFA Street che dovrebbe essere rinnovato con il nuovo FIFA Street 5 Speriamo di vedere il nuovo FIFA Street A me piacerebbe comunque veramente tantissimo vedere su FIFA 18 magari una modalità 5 contro 5 online o anche in singola Però sarebbe veramente fighissimo un ultimate team 5 contro 5 giocare nei campetti, fare freestyle insomma queste cose qua all'interno di FIFA Sarebbe veramente un gioco da 10 e l'ode secondo me però penso che sia una cosa molto 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 difficile da vedere Ora in sovrappressione mentre starò parlando starete vedendo delle immagini che ho preso da uno youtuber che vi lascerò il link sotto in descrizione Perché è stato lui il creatore di questa clip e niente io spero che vi piaccia questo concept a me veramente ha fatto sborrare Oltre alla modalità 5 contro 5 l'altra cosa che sarebbe veramente veramente molto molto figa da vedere Sarebbe secondo me una specie di carriera nel quale tu ti fai, ti crei proprio il tuo club Un po' come si faceva con il campionato master Ti crei un po' il tuo club con giocatori creati da te o comunque dei giocatori scarsi che magari ti dà il gioco E poi partendo da questo club appena creato cominci a crescere, cominci diciamo a scalare i campionati Cominci a crescere come società e poi arrivi a diventare la squadra più forte del mondo Vincere le champions e avere i palloni d'oro dappertutto in casa Sempre parlando di carriera una cosa che vorrei vedere e che ancora non mi ha soddisfatto con questo FIFA 17 È un miglioramento notevole nella carriera allenatore Un cambiamento che dia veramente uno scossone a questa carriera che secondo me va rispolverata Perché da parecchi anni ormai può sempre la stessa solfa Stessi trasferimenti che si fanno sempre, un po' sempre la stessa dinamica Tu che sei un allenatore ma in verità non ti senti allenatore perché oltre a fare gli acquisti e metterla a formazione Poi giochi le partite tu, non c'hai tanto di allenatore, sei più un manager diciamo Quindi a me piacerebbe magari impersonificarmi, oddio l'ho detto giusto non lo so Comunque avete capito in un allenatore o comunque in un allenatore creato o esistente Sarebbe veramente molto molto più figo, capisco che può essere difficile Però sarebbe veramente veramente bello vedere un po' di cose diverse nella carriera Perché anche il menu, un po' tutte le immagini, un po' tutte le diciamo dinamiche della carriera Secondo me alla lunga hanno stufato, a me quest'anno hanno stufato infatti nel canale state vedendo poco carriera E mi dispiace veramente tantissimo ma questo è il motivo essenziale Please EA ascoltate il mio video, va bene anche se non mi cagate però almeno ascoltate e cercate di far così Se volete diffondere il messaggio magari condividete il video sui social Vorrei che almeno la carriera venga cambiata, sarebbe fantastico Magari farò un video a riguardo e dovremmo condividerlo tutti E niente queste sono un po' le cose che mi piacerebbe vedere su questo nuovo FIFA 18 Ditemi qua sotto nei commenti cosa vi piacerebbe vedere in FIFA 18 Le nuove cose, cosa vorreste migliorare, cosa vorreste di nuovo Ci sarebbero tante altre cose che non ho detto come magari il miglioramento dei rigori Che secondo me non sono fatti benissimo, magari una presa in considerazione in più per il calcio femminile Che secondo me se viene diciamo presa sul serio, viene migliorata, viene fatta in modo che venga apprezzata Secondo me potrebbe essere veramente una gran bella cosa, potrebbe dare veramente uno slancio in più a questo FIFA Più cose ci sono secondo me meglio è, quindi non disprezziamo il calcio femminile E cercate EA Sports di migliorare anche le fisiche un po' del gioco Però capisco che il Frostbite è il primo anno che lo usate Però cercate di fare del vostro meglio Un bacione dal vostroiasi, iscrivetevi e condividete il video Un bel like per supportarmi Iscrivetevi per nuovi video perché ne arriveranno molti riguardo FIFA 18 Ci vediamo alla prossima Tadà! Tadà!